tra i pezzi più famosi nella vastissima produzione di luigi boccherini figura il quarto quintetto per chitarra e quartetto d'archi intitolato fandango in cui fanno bella vostra le nattere boccherini si stabilì in spagna perciò la sua musica spesso è profondamente segnata dai ritmi iberici il pezzo è un test di bravura entrato nel repertorio standard delle naziriste grazie a tutti grazie a tutti